Sono 9.000 le famiglie che in Trentino usufruiscono dell'assegno regionale al nucleo familiare, ma di cosa si tratta esattamente? È un sostegno che viene erogato a partire dal primo figlio fino al compimento del settimo anno di età e dal secondo figlio fino a che diventa maggiorenne. Ha diritto a percepirlo che risiede in regione da almeno 5 anni ed ha un nucleo familiare la cui condizione economica non supera determinati limiti. Per verificare se ne avete diritto e conoscere la cifra esatta è necessario calcolare lo specifico indicatore ICEF presso i CAF ACLI sul territorio. L'operazione è assolutamente gratuita, basta prendere appuntamento tramite il numero unico 0461 277 277.